Poi c'è questo è il mercancicanto, che sembra interdimensionale, che si è pietrificato. Poi c'è il mercancicanto, che si è pietrificato, che si è pietrificato, che si è pietrificato e che si è pietrificato. C'è il mercancicanto e non che si è pietrificato, i putzzi ai posseder il mercancicanto Albuè... Grazie a tutti. Grazie a tutti.